Si daranno domani alle 12 in Chiesa Madre i funerali di Giuseppe e De Manuerele Alabi sono deciduti a seguito di un incidente aereo lunedì scorsi mentre a bordo di uno stormo a 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli, destinazione Foggia. Le salme arriveranno nel pomeriggio a Gela. In Chiesa Madre sarà allestita la camera ardente. L'esame autoptico iniziato nel primo pomeriggio di ieri all'ospedale Papardo di Persina si è protratto fino a tarda sera. L'autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica dal Tribunale di Barcellona Pozzuticotto, Francesco Lomonaco. Per domani il sindaco Domenico Messinese ha proclamato il lutto cittadino. La fornesta notizia, detto il primo cittadino, ha provocato un senso di smarrimento e di sgomento che ha pervaso tutta la città. Giuseppe ed Emanuele erano conosciutissimi. Giuseppe Alabiso per la sua passione di pilota, di aerei ultraleggeri ha portato in giro per l'Europa ed il mondo il nome di Gela dando lustro alla città a seguito anche dei diversi records conseguiti in materia di aviazione. Le istituzioni cittadine e l'intera comunità giurese partecipano al dolore dei familiari delle vittime. Il sindaco invita la cittadinanza tutta, le organizzazioni politiche, sociali e produttive a partecipare al lutto cittadino con la sospensione delle attività in senso di raccoglimento e di rispetto durante le esegue. Intanto dai fondali del Martirreno, a 1.500 metri di profondità, affiorano i primi resti dello Storm 300, a recuperarli sono i militari della Guardia Costiera. Tra questi, così come scrive Eolia News, citando le parole del procuratore capo della Repubblica di Barcellona Pozzuticotto Emanuele Crescenti, ce n'è uno che potrebbe rivelarsi interessante. Si tratta di un'indagine particolarmente complessa, ha detto il magistrato, ma faremo tutto quello che c'è da fare per risalire a quanto realmente accaduto. Un'inchiesta è stata aperta anche dall'ente nazionale aviazione civile.